Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Luca, 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 Adriano. La respinta. Luca, 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 Luca. Luca, 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 Luca Non ti abbassare, perché ti stai abbassare? Ciccio, non ti abbassare! Cambia, cambia! Occhio, Giccio! Buona, buona, vai! Occhio, occhio! Cambia l'altra parte, l'altra parte! Cambia, cambia Luca! In mezzo chi c'è? Ibra! Occhio, l'altra parte! Viva! Bravo! Ho fatto la mia? Bravo, Ibra! André! 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 Bravo! Grazie, bravo! Ok, tu corrivi! Bravo, 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 bravo. Eppure lo devo andare a prendere. Guarda, va capire, va capire, va capire. Ti vieno? Ok, bravo, bravo Daniele. Vecino a Andrea, Damiano, vicino a Andrea. Damiano, vicino a Andrea. Signore. Ti andrà. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Va bene, va bene. Ehi, ehi. Andrea, Andrea, Andrea. Vidi, 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 ibra, ibra, ibra. Governo, la sciosta, la sciosta. Michi. Vai, vai, ancora, 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 André, ancora, ok, va bene. Vai, André, vai, André, buona, Dania, buona. André, 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 andré. André, 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 andré. André, 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 andré. Danilo, Danilo, devi arrivare tu lì prima. Cazzo c'è bisogno che ci posso fare. Finca più che altro in questo campo t'ammassa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Laro, Laro, puoi scendere! Dami! Dami! Signore! Va bene! Ciao Daniele! Ciao Daniele! Bravo! Bravo Adri! Occhio sempre là! Sempre vicino! Sempre vicino! Ok! Gioca, gioca, gioca! Dai Andrea! Dai Andrea! Non abbiamo paura! Appoggia! Cambia, cambia! Non abbiamo paura! No! Non abbiamo paura! Vieni la palla! Tira la palla! Tira la palla! Tiralo! Non lo ha detto! Vieni la palla! Vieni la palla! uno solo! uno e Ibra tu! ancora! Ancora! senza parlo Ibra! hai tre! hai tre! hai tre! hai tre! hai tre! ho! ooooh! ho! 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 Ibra qui mi scusa! guarda! 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 Ehi, ehi, ehi! Oh, oh, oh! Là, Ugo, va bene, a lui, va bene! Signore! Signore! Ehi, 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 ehi! Ma perché ti dici 1 e 2? È solo! Ma che dici solo? Se ti dici 1 e 2! Se ti dici 1 e 2, è lui! Signore, parlo prima! Ragazzi, andiamoci dai! No, no, uno, 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 vai, vai. Fischere. Ibra, Ibra, Ibra. 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 Ibra, 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 Ibra. Ibra, Ibra, Ibra. Ibra, 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 Ibra. Ibra, 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 Ibra. Ibra, 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 Ibra. Ibra, 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 Ibra. Ibra, 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 Ibra. Ibra, 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 Ibra. Ibra, 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 Ibra e' a qui vieni ce l'hai però 2, 2 arriva vamo vamo che cosa lì è lungo? Lungo? va lungo? va lungo? dai voi dai vieni torna 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 No, non erano te. 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 Non erano te. No, 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 non erano te. non erano te. No, 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 non erano te. Non erano te. No, 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 non erano te.